Ecco il nuovo posto medico avanzato della Tuscana sarà messo a disposizione della colonna mobile nazionale delle regioni per la gestione delle emergenze. Si compone di ambienti dotati di tecnologie in grado di fornire diverse intensità di cura dall'area a codice rosso a quella pediatrica. La presentazione a Pistoia alla cattedrale ex Breda ha visto la presenza del capo della protezione civile Fabrizio Curcio accompagnato dal presidente Eugenio Gianni, dagli assessori Monia Monni e Simone Bezzini. Poco prima la riunione operativa nella sede della Cross, la centrale remota per le operazioni di soccorso sanitario che viene attivata dalla protezione civile durante le emergenze che durante la pandemia è diventata un modello di collegamento stretto tra il mondo della protezione civile e quello della sanità. L'esperienza che stiamo facendo qui, ha detto il capo della protezione civile Curcio, è di livello europeo. Ciò che funziona nel sistema di protezione civile, nelle relazioni col mondo sanitario, questa è una delle relazioni molto importanti, la Cross di Pistoia è uno dei punti fondamentali di questo rapporto tra il sistema di protezione civile nazionale e la sanità nazionale, tramite una struttura che è la Cross di Pistoia, che ha impattato nel sistema Covid, l'emergenza Covid è impattata su questa programmazione di lavori che era partita ben prima. Ad esempio da qui da Pistoia con la Cross si portavano e si coordinavano le ambulanze con il grande lavoro del volontariato a portare il paziente in terapia intensiva addirittura a Roma, a Milano o fuori regione, a Monaco, a Francoforte, nel momento in cui tutto questo veniva richiesto da un lavoro che sull'emergenza proprio questo settore della protezione civile integrava perfettamente le esigenze del sistema sanitario.